Ciao amici e benvenuti ad un altro video del vostro Rockwain Benvenuti ad un altro mio unboxing Come vedete amici miei oggi abbiamo un bel paccozzo Bello 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 grande Ed esattamente amici miei questo bellissimo paccozzo Mi arriva, vi inquadro qua, direttamente da Kokomo Da Kokomo Toys amici miei, direttamente da Kokomo Toys E quindi vi avviso che non si tratta soltanto di una sola action figure Ma di alcune Quindi amici miei scopriamo insieme che cosa c'è Spero amici miei come sempre che vi piaccia Che vi piacciono Vediamo Vediamo qua L'hanno chiuso un po' strano Dico la verità E' un po' strano E' un po' strano Qualcosa si apre Bello chiuso però Ok Allora L'abbiamo è sopra Qualcosa abbiamo? Abbiamo carta Cos'è c'è qua? Wow Queste sono dei peluche che Che a quanto pare mi ha regalato anche altre cose Che mi ha messo in omaggio Kokomo Toys Vero? Mi ha regalato questo unicorno di peluche Questo di cui mi piacerà a mia madre Grazioso E qui cosa c'è? Wow Incredibile Mi ha regalato questo Questa specie di portacaramelle Di Batman Ma questo deve essere vecchio Ma di che non è? No Amici Riporta la mia data di nascita 1985 Naturalmente queste credo che siano caramelle incluse E onestamente Caramelle che hanno quasi 30 anni Onestamente io non le mangerei Onestamente no Però devo dire Regalarmi una cosa di questo genere Del 1985 Anche se non è una cosa Molto preziosa Ma dico è sempre Un gadget Di quasi 30 anni fa Di Batman Per me è uno dei più bei regali Che puoi fare a un fan di Batman Veramente Veramente Troppo troppo bello Guardate qua Si chiama Pets Fun Games Cioè gioco e divertimento Giochi e divertimento Incredibile Ma Oh Vediamo Allora Carta Vediamo qua che cosa c'è Qua che c'è ancora un'altra cosa Ma che è sta cosa? Ma che cosa è veramente? Un peluche Un altro peluche E allora Ecco qua andiamo con le nostre action figure Allora qua Abbiamo questo bellissimo Batman di Batman Begins Direttamente dal film del 2005 Di Batman Begins Di regia di Christopher Nolan Con Christian Bale Come Batman Nel ruolo di Batman E qua abbiamo appunto il Batman classico L'action figure classica di questa serie base Di Batman E questa come ho già detto L'action figure base Proprio quella principale Che qua la vediamo con la sua valigetta Che nasconde tantissimi oggetti Batman Alla Batman E' davvero bellissimo Davvero bellissimo Serviamo il retro And now out Altri personaggi Bellissimo veramente Vero bellissimo Ma Non è finita qui ancora Vediamo qua che cosa abbiamo Un'altra Bellissima C'è un figure sempre di Batman Begins Del 2005 Qua abbiamo Bruce Wayne Che si trasforma in Batman Davvero straordinario Amici miei Davvero davvero Devo dire Non è proprio proprio Somigliante a Christian Bale Però devo dire che Diciamo Approssimativamente Molto approssimativamente Gli somiglia E questo è naturalmente Ninja Bruce To Batman Cioè da Bruce Ninja A Batman Davvero Fantastico Qua abbiamo L'immagine Del nostro Bruce Wayne Amici miei Io amo Troppo I Bruce Wayne Che si trasformano In Batman Queste action figure Io le amo Tutte Le amo Tutte Amici miei Sono troppo Troppo belli Ma ancora Amici miei Non è finita C'è un'ultima cosa Ancora C'è un'ultima cosa E che cosa Abbiamo qua Papapapà Una bomba Questa è Questo bellissimo Guardiani Di Gotham City Esattamente Direttamente Dal 1995 Dal film Batman Forever E qua abbiamo Batman E Robin Bellissimi Amici Bellissimi Guardate qua Che cosa abbiamo Bellissimi Straordinari Veramente Amici miei Amici A che sognavo Che se c'è un figure Una vita Esattamente Dal 1995 A che le desideravo Porca pupazza Bellissimi Veramente Qua vediamo Il retro Qua vediamo Una Fotografia Del duo E quindi Qua Che cosa Ancora Che cosa è Ah Ho trovato Una tartaruga ninja Carina Questa a me Mi piace Troppo Bello Veramente Devo ringraziare Troppo Kokomo Toys Veramente Troppo 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 Gentile E' stato E naturalmente Qua mi dà Le sue cartoline Pubblicitarie Kokomo Toys Vedete Qua Davvero Straordinario Davvero Straordinario E quindi Amici miei Mettiamo Insieme Il nostro Unboxing Di oggi E allora Abbiamo Queste tre Meravigliose Action figure Guardiani Di Gotham City Batman e Robin Bruce Wayne Che si trasforma In In Batman Direttamente da Batman Begins E Batman Classico Da Batman Begins Quindi amici miei Questo è il nostro Unboxing Di oggi Fatemi sapere Se queste mie Tre action figure Vi piacciono Se non vi piacciono Quindi Lasciatemi un commento O se volete Mettetemi Semplicemente Un mi piace Al prossimo Unboxing Amici miei E Ma che cosa è